La città metropolitana sta per approvare il piano strategico metropolitano che prevede forti investimenti nel territorio. Qual è la sua opinione su questo progetto? I comuni hanno bisogno di soldi. Teniamo tanti progetti ma abbiamo bisogno di boccate d'ossigeno perché siamo diventati il collettore di tante richieste e esigenze. Quindi benvengano questi aiuti, questa manna perché se vogliamo dare una risposta ai comuni, risposte sempre più esigenti, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia una mano. Il vostro comune ha già in mente qualche progetto da realizzare attraverso questo strumento? Abbiamo già, abbiamo più di qualche progetto perché tenga presente un comune di 30 km2 che va dal mare al Monte Faito passando per tanti casali e borgate. Quindi ne abbiamo già di diverse. Poi valuteremo dopo l'incontro di oggi su quale soffermarci.